bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video io sono thomas oggi siamo su hello neighbor questo qui è il primo video su hello neighbor quindi ora iniziamo col video e sta caricando e ragazzi forse giovedì esce un nuovo video qui sul mio canale ho trovato anche lo neighbor per mobile cioè per telefono iniziamo a prendere i bidoni prendere i bidoni e ora saliamo qua e il vicino sta guardando la televisione è tutto un percorso questo Sì Prendere le chiavi e sbloccare queste, perchè verrà. Ora, visto che abbiamo le chiavi della macchina, possiamo aiutare nella macchina. Eccolo lì. Ora si non sta tornando a casa. Ora abbiamo la piccola magnetica. Ora abbiamo la piccola magnetica. E' un po' di scatola. Qui poi vediamo le streghe degli occhiali di Harry Potter. E non li spaccolò nè. Ora andiamo a prendere l'oro. Eccovi! Ora siamo tornati a casa quando ora passiamo a andare qui. bravo, c'è un altro, spantolo wow ok che l'abbiamo presa lasciare questo e prendere la chiave inglese ragazzi no cavolo ho fatto torno a menu ma perché ragazzi perché ora ci fermiamo qua ok perché ora ci fermiamo qua ragazzi un saluto almeno 10 like per questo video oppure di più se volete se vi piace questo video quindi lasciate un bel like iscrivetevi e un saluto da Thomas 9bit Baldino ciao